Questo è un cimelio importante e dono anche di una persona altrettanto importante. Il comandante di Mari Sicilia, comandante Andrea Cottini, ha donato al nostro sodalizio in questa occasione di questa conferenza un cimelio appartenuto a suo nonno, ufficiale della prima guerra mondiale che ha combattuto nella guerra italo-turca. Oggi è stata un'ottima occasione in questa iniziativa che il nostro sodalizio ha fatto a Siracusa ricordando le geste eroiche dei siciliani nella reggia marina. Uno su tutti, stiamo sentendo anche una relazione su Lucchesi, proprio perché Siracusa. Abbiamo molti caduti nella reggia marina a Siracusa, purtroppo caduti nel dimenticatoio come Oscar Lucchesi, Gaetano Rezzo della Targia e sono altri caduti che non sono decorati, come li chiamo io, caduti senza medaglia, che bisogna che tutte le istituzioni ricordino questi avvenimenti. Grazie a tutti.